Un vento di novità arriva in città! Citroën C3 è ai vertici della nostra lista di auto Most Love Ever, ovvero le auto che amiamo. E in questa versione bicolor, con il tetto e i dettagli neri, ci piace ancora di più. Ma andiamo insieme a scoprire quali sono le 10 caratteristiche top che rendono unica questa Citroën C3. Qui, nell'allestimento Shine. Come potete notare, le dimensioni sono abbastanza generose. E possiamo paragonarla quasi a un piccolo crossover. Abbiamo 4 metri di lunghezza per 1,50 m di altezza. Tra le utilitarie City Car, sicuramente non è la più compatta, ma è ampia e voluminosa per offrire spazio a te e a tutti i tuoi interessi. Il design esterno esprime grinta ed energia. Il frontale è rialzato e troviamo subito questi fari diurni a LED incorniciati da due fasce cromate che si trasformano poi nel logo centrale. Sotto abbiamo i proiettori centrali da una forma tondeggiante e i fendi nebbia, invece, sono incorniciati da questa banda nera, quasi a voler sottolineare la voglia di sportività di Citroën. Se il grigio della città ti annoia, Citroën ha pensato anche a te con una gamba di colori vivacissimi e fuori dagli schemi. Visita il nostro sito e trova la versione bicolor più adatta a te. Anche se in questa versione non è molto visibile perché è totalmente nero, il tetto è definito flottante. Infatti, grazie a questi inserti nero opaco che continuano coi finestrini per terminare in questa fascia finale, il tetto sembra staccato dalla carrozzeria sottostante. Come poi vedremo all'interno, Citroën C3 è comoda e molto spaziosa, ma partiamo dal bagagliaio con i suoi 300 litri di capienza e un vano regolare e totalmente sfruttabile in ogni angolo. Il design interno è un mix tra vintage e chic. Vintage perché troviamo una texture molto particolare nei sedili, con degli inserti in tela e le maniglie sulle portiere che assomigliano alle cinghie delle vecchie valigie. E chic per i dettagli in tinta con la carrozzeria e cromati che troviamo sia sulla plancia che sul volante. Rispetto alle concorrenti, C3 Shine è molto accessoriata e tecnologica. Andiamo a scoprire insieme qual è tutto l'infotainment di questa auto da questo touchpad da 7 pollici al centro della plancia. Radio DAB con tutte le modalità audio, navigatore che puoi connetterlo grazie all'USB e il tuo smartphone, il clima, il Bluetooth con cui gestire le tue chiamate in viva voce attraverso i comandi vocali o il comando al volante e l'immancabile Mirror Link. Così potrai scaricare Apple CarPlay o Android Auto in base al tuo sistema dello smartphone e sincronizzare tutte le tue app direttamente sul touchpad per usarle in totale sicurezza senza usare il cellulare. Inoltre, sempre dallo schermo, possiamo visualizzare la retrocamera e i sensori di parcheggio. Numerosi e super interessanti sono i sistemi di aiuto e di assistenza alla guida. Scopriamoli insieme. Active Safety Brake, infatti la tua auto se rileverà un pedone in movimento o uno staccolo fisso ridurrà automaticamente la velocità e frenerà al posto tuo. Il Assist, per facilitare le tue partenze in pendenza ed evitare che l'auto indietreggi quando togli il piede dal freno. Sorveglianza dell'angolo morto, grazie a un sensore rivela e ti indica la presenza di un'auto posta nello spazio cieco degli specchietti retrovisori esterni. Driver Attention Alert che valuta lo stato di vigilanza del conducente e si accorge da solo se c'è una deviazione di traiettoria rispetto alle strisce a terra e ti invita a fare una pausa attraverso il Coffee Alert in caso di necessità. Citroen C3 è in grado di fare proprio tutto, riconosce i cartelli stradali e informa il conducente sui limiti di velocità. E attraverso il Cruise Control possiamo impostare una velocità di crociera e mantenere costante la nostra andatura. Senza tenere il piede sul pedale dell'acceleratore. Sono tutte Euro 6 e nel pieno rispetto delle normative anti-inquinamento. Sono state studiate per ottimizzare i consumi di carburante e diminuire le emissioni di CO2. Rimane la più green della sua categoria con dei consumi davvero record. Quindi bassi costi di mantenimento, basse emissioni di CO2 e prestazioni da campioni. Volete un esempio? Eccolo! Con un motore diesel da 1.675 CV abbiamo una percorrenza di 17,6 km con solo un litro. Se sei un neopatentato, non scoraggiarti, quest'auto fa anche per te. È compatta, ha un'alta manovrabilità e tantissimi sistemi di aiuto alla guida. Ultima caratteristica, ma non meno importante, è sicuramente la qualità di guida. Ha una guida morbida, con un volante molto maneggevole, una leva del cambio reattiva e la frizione elastica. Anche le sospensioni sono morbide e attutiscono perfettamente le buche e gli avvallamenti della strada. Con un effetto che viene definito cocoon, ovvero l'effetto bozzolo. Quindi non c'è solo un isolamento da tutte le sollecitazioni stradali, ma anche da tutti i rumori esterni. Penso che sia l'auto con il miglior rapporto qualità-prezzo. Vieni a scoprire tutte le versioni e tutti i colori nella Ratti Lounge. Ti aspettiamo!